Affano, la tua voce conta. Con il bilancio partecipato costruiamo insieme il futuro della città. Esprimi la tua opinione, presenta il tuo progetto e vota le idee migliori. Facciamo la differenza insieme. Visita il sito www.bilancioparticipato.it e scopri come dire la tua. Bilancio partecipato. Adesso scegli tu. Cari amici di Fano TV, ben trovati. In questo approfondimento in studio ci occuperemo di Bilancio Partecipato, un progetto che vede protagonisti i cittadini ma soprattutto le loro idee per migliorare la città di Fano. A tal proposito sono stati stanziati 200.000 euro e c'è un bando attivo. Ne parliamo con i nostri ospiti in studio. Buonasera all'assessora Sara Cucchiarini. Buonasera, buonasera. E buonasera a Giovanni Fontana, Presidente della Commissione Bilancio. Buonasera a tutti. Allora, vogliamo capire un po' il percorso. Come siete arrivati a questo progetto? Perché c'è una storia alle spalle. Il bilancio partecipato è uno strumento che nasce tra i banchi del Consiglio Comunale proprio da una proposta di gruppo del Movimento 5 Stelle che è stata sposata anche dal gruppo del Partito Democratico e poi sostenuta dall'intero Consiglio Comunale. in un percorso che va avanti ormai da diversi mesi, che ha visto comunque diverse fasi di costituzione di questo strumento, che è uno strumento di partecipazione alla finanza pubblica non semplice. E abbiamo fatto un lavoro di commissione, poi meglio di me lo può raccontare il Presidente della Commissione Finanze, che ci ha portato a mettere in piedi uno strumento che mettiamo a terra adesso per la prima volta nel Comune di Fano in una modalità che vogliamo considerare anche sperimentale al fine di capire se ci sono miglioramenti e aggiustamenti per poter poi aggiustare il tiro anche il prossimo anno con un regolamento che abbiamo comunque approvato all'unanimità in Consiglio Comunale e delle risorse stanziate approvate proprio la scorsa settimana nel Consiglio del bilancio di previsione dove mettiamo 200.000 euro di risorse in conto capitale per finanziare questo progetto. Un progetto mirato ad accorciare le distanze tra chi legifera e i cittadini. Bilancio partecipato ma anche e soprattutto partecipativo. Sì, sì, infatti. Il bilancio partecipato è la motivazione con cui nasce questo nuovo strumento diciamo di partecipazione da parte dei cittadini. Proprio è nato tantissimi anni fa in Brasile, a Porto Alegre con la precisione. Una città abbastanza grossa con quasi un milione e mezzo di abitanti con una parte considerevole del loro bilancio che è stato deciso di dedicarlo appunto a questo progetto. Ed è avuto un gran successo. Insomma, sono più di 30 anni che viene effettuato in quella città. E poi da lì si è sviluppato un po' in tutto il mondo, in tante città, anche città grosse. In Italia la città più grossa è Milano, per esempio. Però abbiamo tantissime realtà a livello nazionale che già utilizzano questo strumento. È uno strumento che serve proprio a facilitare il confronto tra la cittadinanza e l'amministrazione pubblica. che dovrebbe, uno dei motivi con cui è nato, è anche cercare di ridurre i conflitti che ci sono tra la cittadinanza e l'amministrazione pubblica. Anche perché poi in Italia, in particolar modo, ma un po' dappertutto, c'è questo scollamento tra i cittadini e la politica e chi gestisce l'attività amministrativa sia locale che nazionale. Lo vediamo tutti i giorni in pratica. Quindi questo è uno strumento che deve cercare appunto di unire, di evitare alcuni conflitti. Certo, evitarli tutti penso che sia praticamente impossibile. Però è un piccolo passo per cui si spera che questo serva proprio ad accorciare un po' le distanze fra i cittadini e la pubblica amministrazione e cercare appunto di far avvicinare qualcuno che oramai non va più a votare, è proprio critico e basta verso chi gestisce la cosa pubblica. È interessante e fondamentale conoscere i termini di presentazione e partecipazione del bando a partire da chi si rivolge, ma questo progetto lo possiamo suddividere in fasi. Quindi partiamo con la prima. Le fasi sono sei. In questo momento siamo nella prima fase e cioè in quella che vede la presentazione da parte del Comune di Fanno del progetto del bilancio partecipato e vedrà una serie di incontri, una decina rivolti a tutta la cittadinanza, divisi sia per quartieri che per che categorie un appuntamento sarà dedicato anche a Fanno della città delle bambine e dei bambini al quale è dedicato una parte importante, il 25% di questo bilancio partecipato. La seconda fase invece è quella che è attiva anche questa fino al 22 di gennaio e cioè il bando aperto, il bando al quale la cittadinanza potrà partecipare in due modalità quella per presentare il proprio progetto che si vedrà finanziare dalla Comune di Fanno se riceverà i voti necessari da parte della cittadinanza e la seconda modalità di partecipazione è quella di facenti parte del gruppo di valutazione tecnica dei progetti del bilancio partecipato. Quindi questo è un bando aperto tuttora fino al 22 di gennaio. A tal proposito io saluto anche l'assessore Etienne Lucarelli Buonasera a tutti Allora costruiamo insieme il futuro della città questa non è una novità perché dialogo e condivisione insomma è una politica che si porta avanti da tempo Diciamo che la parola insieme è stata sempre nelle mie corde è una parola che usiamo spesso perché veramente crediamo che si debba dialogare con i cittadini per capire le loro necessità In questi anni soprattutto l'abbiamo fatto con una serie di associazioni che ci sono nei quartieri una cittadinanza molto attiva che ha dato un valore aggiunto alla città sia dal punto di vista delle attività che sono state realizzate nella città alcuni eventi, alcuni progetti culturali la realizzazione di libri che hanno raccontato dei quartieri e devo dire che abbiamo utilizzato un metodo che è cresciuto soprattutto in questi anni che è quello di realizzare un bando pubblico dove le associazioni potevano partecipare e dove hanno ottenuto dei finanziamenti anche di un certo tipo per realizzare eventi ed attività in genere ecco sono tante le associazioni che hanno partecipato ma è un metodo bello perché si entra proprio a dialogare pienamente con la città oggi arriva questo progetto che è bilancio partecipativo che è un progetto veramente innovativo e che ci dà modo anche di lanciarsi verso il futuro perché poi io credo veramente che è questo che dobbiamo fare dialogare con i cittadini e trovare anche una nuova forma di partecipazione ecco noi vediamo dalla presenza in passato delle circoscrizioni e ancora la visione della nostra città quindi la suddivisione della nostra città formalmente suddivisa in circoscrizioni ma devo dire che uno studio del 2016 dell'Università d'Urbino ha ridefinito un pochettino quelli che sono i quartieri della nostra città perché diciamocelo chiaramente abbiamo tanti quartieri l'Università ne ha definiti circa 20, 21 ognuno ha delle dinamiche diverse non sono più ampi territori ma sono singoli quartieri che vivono in determinati contesti hanno una vita sociale, mostrano un carattere specifico ecco io devo dire che ne ho conosciuti diversi ed è bello entrare nelle loro dinamiche parliamo ad esempio del Natale nel Natale abbiamo vissuto con loro dei fantastici momenti per l'accensione degli alberi in tutti i quartieri il 25 siamo andati ad inaugurare un piccolissimo presepe alla Travi in una chiesa che è fantastico, anche molto tecnologico ecco parliamo di questo parliamo che quando la città si mette in moto si sente, vogliamo condividere con loro dei progetti si sente coinvolta ecco si fa delle attività veramente molto importanti per la città ed è questo che noi dobbiamo fare dobbiamo motivare la cittadinanza quindi il legame con i quartieri comunque le associazioni o ancora prima le circoscrizioni si porta avanti e da tempo ed ognuno ha sempre dato il proprio contributo sta dando un fortissimo contributo e questo ci aiuta a costruire la città ecco con il bilancio partecipato facciamo un passo in avanti non pensiamo soltanto all'attività di tipo culturale ma pensiamo anche alla strutturazione di progetti veri che possono essere realizzazioni ad esempio di panchina all'interno dei panchi installazione di giochi piuttosto che qualcuno diceva in questi giorni perché non pensare alla sicurezza e magari pensare all'installazione di telecamere ecco ogni cittadino può pensare a dei progetti dialogare con l'amministrazione presentarli e avere una commissione che poi saranno i cittadini a votare questi progetti avere qualcuno che può giudicarli e quindi vedere realizzato la propria idea Un appuntamento da non dimenticare sono gli incontri insieme ai quartieri Sì perché abbiamo presentato insieme all'assessora Cucchiarini e al consigliere Giovanni Fontana il progetto alla Sala della Concordia circa un mese fa ma adesso vogliamo andare proprio direttamente nei quartieri a raccontare il progetto e a farlo conoscere nei dettagli per far sì che poi non si sbagli anche tecnicamente a presentare le pratiche per poter ambire a vedere realizzato il proprio progetto Ecco abbiamo diviso gli incontri in una serie di incontri ad esempio Bellocchi, Cucurano, Rosciano e Centinarola li incontreremo lunedì 8 gennaio presso l'associazione Verde Vivo poi a Casa Cecchi incontreremo Poderino, Gimarra, Fenile, Lido Sant'Andrea, Carignano e Ronco-Sambaccio il 9 gennaio Sassonia, Baia Metauro e il centro li incontreremo mercoledì 10 gennaio presso la Sala della Concordia Fanno 2, Flaminio, San Cristoforo e i passeggi li incontreremo venerdì 12 gennaio presso la Sala della Chiesa di San Cristoforo San Lazzaro, Vallato giovedì 11 gennaio alla Sala Comunità Don Tonucci Sant'Orso presso il Circolo Anziani di Sant'Orso sabato 13 gennaio alle ore 17 e Tombaccia, Caminate, Ponte Metauro Villa Uscente, Baia Metauro Metauriglia, Ponte Sasso e Torrette nella Chiesa di Torrette lunedì 15 gennaio 2024 poi i miei colleghi parleranno ancora meglio di incontri specifici con le scuole perché il progetto ha anche una valenza per fanno città dei bambini e delle bambine insomma la nostra intenzione è veramente cominciare a dialogare con i cittadini chiedere loro quali sono le necessità e magari iniziare a realizzare dei progetti che partono direttamente dalle loro idee la terza fase è quella che dal 23 di gennaio quando sarà chiusa la fase di presentazione dei progetti e delle autocandidature vedrà costituirsi il gruppo tecnico di lavoro che noi abbiamo definito impropriamente giuria popolare dove un gruppo di persone insieme a dei tecnici gruppo di cittadine e cittadini insieme a dei tecnici del comune valuteranno l'ammissibilità tecnica di tutti i progetti arrivati quindi quali sono le caratteristiche perché arriveranno quelle che sono idee progettuali non progetti del tutto definiti per cui sarà importante che il gruppo tecnico dia una forma possibile poi da presentare e finanziare e porre al finanziamento appunto questa progettualità la quarta fase invece è quella della definizione dei progetti ammissibili decisivi dal gruppo tecnico che verranno messi in una piattaforma che sarà poi messa a disposizione del voto online e ricordo che il sito è www.bilanciopartecipato.it sito nel quale sarà possibile votare tutti i progetti ma sito dove è possibile tutt'oggi vedere tutte le informazioni e seguire tutte le fasi e avere diciamo le indicazioni necessarie per presentare i propri progetti o le proprie richieste la quinta fase invece è la pubblicazione dei 14 progetti che saranno diciamo scelti e saranno ammessi al finanziamento e quindi poi ci sarà un momento anche di restituzione con la cittadinanza di quelli che sono i progetti che sono stati scelti appunto dalla cittadinanza come progetti migliori e finanziati e la sesta fase poi è da parte del Comune di Fanno la realizzazione e finanziamento delle opere e dei progetti Chi vuole partecipare a questo bando? Il bando aperto a tutta la cittadinanza residente a Fano che abbia compiuto almeno 16 anni d'età E quando scadrà? Il bando è in varie fasi quindi la prima fase come dicevamo per l'ammissione dei progetti scade il 22 di gennaio Quindi ci sono diversi progetti che sono già nati e come si sa riguardano comunque degli interventi che la cittadinanza ha piacere che si realizzino Ma vorrei chiedere quanto e cosa si aspetta l'amministrazione comunale da questo bando, da questo progetto e soprattutto cosa deve aspettarsi la cittadinanza? Quello che noi desideriamo mettere in atto del motivo per cui abbiamo deciso di fare questo percorso condiviso tra forze che siedono in consiglio comunale tra amministratori è di mettere in piedi un dialogo costruttivo e diciamo una progettualità condivisa per scegliere con un piccolo strumento che può anche crescere nel tempo una volta che lo avremo definito in tutte le sue fasi in modo ottimale in modo tale da poter condividere le scelte amministrative e finanziarie che come sappiamo sono scelte semplici a volte con dei paletti obbligati e quindi condividere e coinvolgere in modo diciamo più stringente più consapevole la cittadinanza in queste scelte credo che sia un grande traguardo che ci poniamo di raggiungere Allora il fondo disponibile è quello di 200.000 euro poi però ogni progetto quanto verrà finanziato? Il massimo del progetto il tetto massimo per ogni progetto è 50.000 euro possono arrivare anche progetti di importi molto più piccoli tra l'altro ne stanno arrivando perché in questi giorni è aperto il bando per cui stanno già arrivando delle proposte e dei progetti insomma che si mettono a disposizione che sono anche molto più piccoli faccio solo qualche esempio a beneficio della comprensione di questo strumento stanno arrivando diciamo a frutto dell'elaborazione di diversi quartieri o territori progetti che hanno una funzione pubblica come per esempio piccole aree che sono scoperte dall'impianto di videosorveglianza che invece richiedono una copertura quindi sono progetti magari di alcune zone non molto estese ma diciamo dove l'impianto è necessario che comportano comunque una spesa non molto grande che può essere dell'ordine di una decina di mila euro per intenderci ecco è un po' questo il senso dei progetti cioè riuscire a individuare una funzione pubblica chiaramente no? o di quartiere e la finalità e comunque il focus di ogni progetto e non perdere mai di vista fanno la città dei bambini e delle bambine una parte consistente diciamo della somma stanziata è proprio stato previsto che venisse utilizzata dalla città dei bambini e delle bambine quindi un quarto di questo importo quindi 50.000 euro è ad uso esclusivo appunto dei progetti che presenteranno appunto i bambini nella loro assise anzi già ci sono dei progetti presentati da parte della città dei bambini e delle bambine ultimo quello dei passeggi che però l'IG già è stato finanziato quindi lì già è un passettino avanti però abbiamo un ritenuto importante visto che la città di Fanno ha questa peculiarità che è appunto la città la prima al mondo in questo caso grazie a Tonucci che è la città dei bambini e delle bambine quindi c'è un sindaco c'è un consiglio comunale dei bambini e delle bambine quindi dove loro presenteranno progetti e saranno esclusivamente dedicati a loro quindi un quarto di questa cifra 50.000 euro sarà dedicato alla città dei bambini e delle bambine il resto gli altri 150.000 euro in questo primo anno al resto dei progetti che come diceva prima l'assessora potranno essere di un importo massimo di 50.000 euro e consigliamo cosa che abbiamo già fatto in primi incontri che questi progetti presentati considerate che ci saranno alcune spese tecniche diciamo per la progettazione appunto del tutto che siano di un importo leggermente inferiore a quei 50.000 euro perché ci sono spese dei tecnici c'è l'IVA che spesso a volte non si considera insomma ci sono delle spese che alcune volte i cittadini non sanno che ci sono quindi uno dei motivi appunto di questi incontri informativi che si fanno nella città sarà anche spiegare questo come funziona il tutto e come si arriva anche a quegli importi da finanziare ecco il pericolo cosa che si cercherà di evitare proprio nella maniera più assoluta è che non vengano attuati questi progetti quindi è che ci possa essere una strumentalizzazione politica cosa che assolutamente ce lo siamo detti in commissione in consiglio comunale vorremmo che la politica in questo caso stia faccia un passettino indietro cioè che sia diventa un progetto il bilancio partecipativo della città dei cittadini e quindi il politico sì in questo caso noi accompagniamo il tutto però lo diciamo ad alta voce poi nel Comune 5 Stelle ce l'abbiamo diciamo nel DNA questo discorso della partecipazione diretta dei cittadini quindi vorremmo che la politica si facesse un passettino indietro si mettesse da parte quindi i cittadini devono diventare la parte importante di tutto questo progetto devono essere i cittadini punto si parla di commissione giudicatrice ma anche di gruppo di lavoro capiamo bene le differenze e soprattutto come funziona questa distinzione di ruoli non esiste una vera e propria commissione giudicatrice perché a scegliere i progetti che verranno finanziati sarà direttamente la cittadinanza con un voto online dal sito quindi proprio un voto diretto dal sito ma c'è una commissione tecnica che noi definiamo diciamo impropriamente giuria popolare che è composta da quei cittadini e quelle cittadine una trentina che si diciamo vorranno farne parte e saranno estratti diciamo da questo bando che è aperto anche questo fino al 22 di gennaio per chi si candida a far parte del gruppo tecnico il gruppo tecnico è quel gruppo che insieme ai tecnici del comune valuterà dopo il 22 di gennaio quindi quando sarà chiuso il bando per la presentazione dei progetti l'ammissibilità tecnica dei progetti ed è un modo anche questo per partecipare e far diciamo coinvolgere la cittadinanza in quelle che sono le valutazioni che si debbono fare nei confronti comunque dei progetti dei loro costi della loro opportunità di finanziamento e di tutte le fasi che ci sono dietro comunque a una scelta amministrativa di diciamo definizione di un progetto e il suo finanziamento e poi la realizzazione per cui è un momento di partecipazione anche questo e il gruppo tecnico aiuterà i tecnici del comune dei vari uffici a scegliere i progetti ammissibili al finanziamento quindi progetti che non siano già stati realizzati dal comune progetti che non siano già in conto di essere realizzati magari nei strumenti di programmazione del comune e poi fare quel lavoro di diciamo così definizione di quelle idee progettuali arrivate al fine di renderli comunque poi ammissibili e finanziabili loro faranno una valutazione di questo tipo scegliendone poi facendo una scrematura di 14 che saranno poi messi al voto nella piattaforma online sul sito bilanciopartecipato.it Siamo quasi in chiusura di questo appuntamento aggiungere una cosa forse non l'abbiamo detto i progetti devono riguardare appunto spese di investimento e non come spesa corrente come suol dirsi nel tecnicismo del bilancio quindi spese di investimento che possono essere la panchina scendendo proprio sul progetto più semplice da realizzare ma devono essere oppure se si volesse fare non so un festival del cinema adesso mi viene in mente il cinema però ecco non è il festival dell'organizzazione le spese dell'organizzazione ma per esempio l'acquisto del proiettore dello schermo quindi spese di investimento vero e proprio e quindi i progetti cosa che spiegheremo poi nell'incontro che faremo con la città devono riguardare appunto questo tipo di spesa per come l'abbiamo pensato altri comuni hanno fatto altro tipo di scelte però noi abbiamo fatto questo tipo di scelte insieme alla dirigente che non dovremmo dimenticare che ha fatto un gran lavoro la dottoressa Madoni con tutto l'ufficio che si è occupato di mettere giù il regolamento e insomma di capire alcuni tecnicismi e di farcene anche capire perché l'idea poi messa in campo non è poi sempre così semplice le idee sono molte idee sono belle a volte non sono praticabili in questo caso grazie all'ufficio ragioneria la dottoressa Madoni e i suoi collaboratori hanno fatto sì che si potesse realizzare in maniera concreta quindi di questo ringraziamo penso che l'assessore sia d'accordo con me nel ringraziare assolutamente gli uffici bene io ringrazio allora i nostri ospiti per essere intervenuti ringrazio il pubblico a casa Riccardo Sora in regia vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci a Fano la tua voce conta con il bilancio partecipato costruiamo insieme il futuro della città esprimi la tua opinione presenta il tuo progetto e vota le idee migliori facciamo la differenza insieme visita il sito www.bilanciopartecipato.it e scopri come dire la tua bilancio partecipato adesso scegli tu e scopri come dire la tua